Grazie davvero. Io sono molto grato all'Associazione Fare Arte del nostro tempo, alla signora Bezzellini, alla città di Lugano, per questo invito che mi dà l'opportunità di essere in questa parte d'Europa che amo molto. Ringrazio soprattutto voi che siete qui ad ascoltare. L'uomo è solo, l'uomo non è solo. Io affronterò questo tema da un angolo molto particolare, noi e le altre generazioni, noi e l'idea di bene comune. Tutti conosciamo il grande precetto evangelico, ama il prossimo tuo come te stesso, ma vorrei citarvi un commento eccentrico a questo precetto evangelico e comincio con questa citazione, poi vi dirò di chi. Il vostro amore del prossimo è cattivo amore per voi stessi. Vi consiglio io forse l'amore del prossimo? No. Vi consiglio piuttosto la fuga dal prossimo e l'amore verso i più lontani, più nobile dell'amore per il prossimo e l'amore per i più lontani e per l'avvenire. Il futuro e quel che è più lontano siano dunque per te la causa che genera l'oggi. Nietzsche, così parlò Zaratustra, 1883. Credo che queste parole molto belle, in cui Nietzsche capovolge il precetto evangelico dell'amore, apparentemente lo svaluta e lo capovolge in nome della superiorità del futuro sul presente, in nome della necessità di orientare le nostre azioni di oggi in base ai loro effetti nel futuro, anche remoto, possa essere un buon punto di partenza per il mio discorso di oggi. Si rovescia in questo modo il rapporto causa-effetto. Il futuro viene indicato come causa del presente e non il contrario, perché tutto quello che noi facciamo oggi in realtà costruisce il futuro, anche quando noi non lo vogliamo. Quando noi distruggiamo il paesaggio intorno a noi, per esempio, stiamo costruendo un futuro peggiore per le generazioni successive. Non lo facciamo per quello, ma quello è l'effetto. E' questo il fantasma di cui parla Nietzsche poco sotto nella stessa pagina. Seconda e ultima citazione da Nietzsche. Questo fantasma che corre davanti a te, fratello, è più bello di te. Perché dunque non gli dai la tua carne e le tue ossa, ma invece ne hai paura e corri a confonderti con il tuo prossimo. Perché non immaginare un futuro migliore del presente e correre verso quel futuro? Invece no, abbiamo paura di un futuro migliore e ci rifugiamo nel conformismo. Il futuro, fantasma inconoscibile, può fare paura, ma è la sola dimensione dove possa aver mai luogo il mondo, cioè la bellezza, che noi vorremmo. Ma quali sono i lontani che Nietzsche ci raccomanda di amare? Ci sono tre specie di lontananza, io credo. Chi è lontano da noi nel tempo, e sono i posteri. Chi è lontano da noi nello spazio, e sono gli abitanti di un altro continente. Il nostro pensiero va al continente più derilitto oggi, l'Africa. Chi è infine più vicino nel tempo e nello spazio, è da noi lontano per condizioni di vita, di salute, di diritti, di lavoro. E questi ci sono anche nelle società più prospere, perché, come tutti sappiamo, oggi la povertà, anche in Europa, cresce sotto la pressione della crisi. Lontano da noi è infatti anche chi va precipitando nella povertà le favelas che si stanno formando intorno ad alcune importanti città europee, per esempio in Italia, o anche a chi abita senza vivere troppo poveramente in aree pesantemente inquinate, e dall'aria che respira dall'acqua che beve non trae la vita, ma la morte. Anche questi sono lontani da quelli di noi che sono in buona salute, che vivono bene, che non hanno problemi. Allora, che cosa tiene insieme queste tre diverse tipologie di lontani? Non è soltanto il fatto che si pongono tutte e tre di fronte a un noi, ma è qualcosa di più, quello che potremmo dire, la legge morale dentro di noi, e cioè la fiducia, io direi, nei diritti fondamentali e inalienabili dell'uomo. La fiducia che esistano diritti fondamentali inalienabili dell'uomo e che debbano essere trasmessi da una generazione all'altra, ci viene dal cuore stesso del progetto illuministico dal quale nascono poi le moderne costituzioni. Secondo Montesquieu è l'interesse del genere umano che genera le istanze di giustizia. Secondo l'italiano e il napoletano Filangeri, nello stesso secolo, gli interessi eterni del genere umano sono il grande obiettivo etico e politico, indicato da un'alta e lunga tradizione filosofica secondo cui la certezza del progresso e la ragione umana sono e devono essere una sola cosa. Presuppongono dunque queste idee una profonda empatia verso i lontani, inevitabilmente intrisa di antiche intuizioni e precetti religiosi, valgono sulla base di un discorso che indica l'equità fra gli uomini come una meta, forse irraggiungibile ma necessaria. Siamo per questa ragione, noi dobbiamo ricordarci che nel riflettere su questo tema noi siamo in qualsiasi momento, per esempio oggi, i custodi della memoria del passato ma anche gli artefici del futuro. Bene, il tema principale di questo discorso è dunque se esistono diritti delle generazioni future. Domanda, le generazioni future hanno diritti? Chi nascerà fra cento anni ha diritti oggi che noi dobbiamo riconoscere. Quali sono gli interessi delle generazioni future? per citare un grande dibattito che è anche di natura filosofica, sociologica ma anche giuridica e che negli Stati Uniti ha una particolare vivacità. I temi più ricorrenti in questo dibattito sono la protezione del clima e dell'atmosfera, la conservazione della vita, la biodiversità, la tutela dell'ambiente, la gestione delle fonti di energie e dei rifiuti, il controllo del clima, delle biotecnologie, il controllo del patrimonio genetico umano e animale, la tutela del patrimonio culturale e della sua diversità. Cioè due nozioni generali che possono raccogliere tutto questo, tutte queste rubriche e sono ambiente e vita. L'ambiente possiamo dire è costituito dalla somma e dall'interazione tra numerose e diversificate forme di vita. È un tema molto moderno, un tema molto tipico del nostro tempo sotto la pressione delle devastazioni che il nostro ambiente subisce, ma è un tema anche molto antico. Io sono un classicista e mi piace citare Ippocrate, un trattato che non è in realtà di Ippocrate ma attribuito a lui, un trattato comunque che è della fine del V secolo a.C. si chiama Arie, Acque e Luoghi. Questo è il titolo di questo trattato. L'autore anonimo di questo trattato, che non è Ippocrate ma è uno vicino a lui, era perfettamente chiaro il nesso inevitabile fra la malattia e l'ambiente che la può provocare. Perciò le patologie sono distinte fra le patologie comuni a tutti gli uomini, perché indipendenti dell'ambiente, e quelle che vengono chiamate epichoria, cioè locali, quelle innescate da situazioni ambientali. Preoccupazione costante della medicina greca, che si tradusse molto presto nelle forme del diritto. Nel 430 a.C. c'è un decreto di Atene, conservato inciso sul marmo, in cui, ve lo cito, si vieta assolutamente, sto citando, di mettere i pellami a imputridire nel fiume Ilisso, a monte del tempio di Eracle, di praticare in quell'area la concia delle pelli e di gettare gli scarti nel fiume per non provocare la malattia degli abitanti. 430 a.C. Cristo è da allora che ci stiamo preoccupando di questo. Con questo decreto, in realtà, che in anni non lontani dalla famosa peste di Atene di cui parla Tucidide, la polis di Atene obbliga i privati, come tutte le città dovrebbero fare oggi, a trasferire i propri laboratori lontano dall'abitato a proprie spese, non a spese pubbliche, onde non danneggiare la salute dei cittadini. E nello stesso spirito, Platone scrive un secolo dopo queste parole, nelle leggi. L'acqua si inquina facilmente, perciò è necessario che la città debba proteggerla per legge. E la legge deve punire severamente, scrive Platone, chiunque corrompa l'acqua sapendo di farlo e condannarlo a pagare un'ammenda e a ripulire l'acqua interamente a proprie spese. Credo che, se si facesse così, qualcosa di meglio, anche oggi accadrebbe nelle nostre città. Nessun crimine ambientale è oggi abbastanza lontano da noi da poterlo ignorare. Non possiamo ignorare, per dirne solo una, l'abbattimento di enormi foreste in Brasile che hanno delle conseguenze positive se non abbattute, negative se abbattute, sul clima dell'intero pianeta. Non possiamo dimenticare quello che ben pochi conoscono, il cosiddetto continente di plastica. Queste bottiglie di plastica che si aggregano e che formano una specie di continente che si separa e si riforma, è grande quattro volte l'Italia e che galleggia nel Pacifico. In questo pianeta che non ha più lontananza, in questo pianeta in cui esiste una vera globalizzazione che è quella della distruzione dell'ambiente, l'amore verso i più lontani vuol dire cura per noi stessi. Si è parlato sempre più spesso di diritti umani, ma di diritti di animali e delle piante. C'è un famoso libro americano di un giurista americano che si chiama Stone, il cui titolo è Should Trees Have Standing? Cioè, gli alberi sono soggetti di diritto? Gli alberi hanno diritti? Naturalmente la risposta è che gli alberi non possono mai agire in giudizio contro gli esseri umani, ma non basta. Se non lo fanno loro, dobbiamo essere noi a farli per loro. Tutto il discorso sui diritti delle generazioni future si è svolto sulla base di un grande equivoco. Come ha scritto un giurista americano, le generazioni future non hanno diritti perché non possono agire in giudizio. Non c'è dubbio, un giovane luganese o australiano che nascerà nel 2100 non può agire in giudizio contro le infamie che gli stiamo cucinando oggi per lui. Tuttavia le generazioni future hanno ugualmente diritti. L'idea di traguardare il futuro per costruire il presente non è nuova ed è un'idea di quelle che fanno sentire, che dovrebbero far sentire, che l'uomo non è solo e che la comunità degli uomini di oggi non è sola. Ci sono tratti del pensiero dominante che passano per razionali, ma non lo sono affatto. Perché abbiamo per esempio fiducia nella crescita infinita dell'economia? Una crescita che divori le risorse della terra quasi fossero inesauribili. Questa è un'utopia negativa, l'utopia positiva secondo cui le risorse vanno controllate. Invece la marginalizziamo. Perché dobbiamo credere nella perpetua autoregolazione del mercato e genuflettersi davanti a questa utopia negativa che non funziona e non aspirare invece a utopie positive come quella dell'equità. Dobbiamo costruire dunque un'utopia a progetto pienamente ragionata proiettandola verso un futuro possibile. Hans Jonas, nel famoso suo libro Principio e responsabilità, che è della fine degli anni 70, in tedesco e è stato poi dieci anni dopo tradotto in varie lingue, fra cui l'italiano. Secondo Hans Jonas, noi siamo ormai, l'uomo ormai è un prometeo irresistibilmente scatenato, al quale la scienza conferisce forze senza precedenti e l'economia imprime un impulso incessante. Questo inedito orizzonte, continua Jonas, esige un'etica che, mediante autorestrizioni, sappia impedire all'uomo di diventare una sventura per sé stesso. Ed è quello che sta accadendo. La comunanza dei destini dell'uomo e della natura, riscoperta nel pericolo, ci fa oggi scoprire anche la dignità propria della natura e ci impone di conservarne l'integrità. Non siamo soli anche perché facciamo parte di questa natura. C'è un continuum fra i diritti delle piante che non sanno esprimerli, quelli degli animali che non sanno esprimerli, quelli delle generazioni future che non possano esprimerli e quelli nostri che dobbiamo, come uomini consapevoli di noi stessi, curare questo complesso di diritti dell'ambiente che ci circonda. Perciò dobbiamo costruire un'etica della lontananza costruita su una consapevole empatia con il mondo che ci circonda e con le generazioni future. Un'etica del futuro non solo degli uomini ma della biosfera. Un'etica delle responsabilità. Enzo Bianchi, un importante intellettuale cattolico del nostro tempo, priore della comunità di Bose, ha scritto che il grande precetto evangelico che vi ho letto al principio amerai il prossimo tuo come te stesso, oggi va letto diversamente nello spirito del Vangelo. Va letto e rideclinato, scrive Enzo Bianchi, così amerai la terra come te stesso. Perché se non amiamo la terra, non amiamo neanche il prossimo nostro e neanche noi stessi. Senza un ingrediente propriamente etico, la tecnologia e l'economia sono oggi forze distruttive, congegni ciechi, compagni di strada, assassini che una volta innescati divorano l'ambiente e la vita in una spietata corsa inerziale che nulla può arrestare. Solo entro una rigorosa dimensione etica l'economia e la scienza possono recuperare la radice preziosa dei nobili saperi da cui provengono, e cioè la scienza della natura e la scienza dell'uomo. Al momento della rivoluzione scientifica, fra 6 e 700, si impresse allora, da Galileo in poi, ma anche prima e anche dopo naturalmente, una brusca accelerazione al controllo dell'uomo sulla natura, attraverso la scoperta di leggi, attraverso la scoperta della capacità tecnologica di agire sulla natura modificandola. Ma allora, fra 6 e 700, umanessimo e scienza formavano ancora una superiore unità. Né Copernico, né Vesalio, né Bacone, né Galileo immaginerano mai un mondo in cui le conquiste della scienza e della tecnologia o le astrazioni matematiche della finanza diventassero nemiche dell'uomo, come oggi sono, diventassero nemiche del pensiero filosofico, diventassero avversarie dell'etica, diventassero contrarie al progetto di felicità individuale e collettiva che ne era stato per millenni il vero lievito, da Socrate in poi, ma anche prima. Sanare la biforcazione fra scienza e umanesimo, negare le quotazioni, per così dire, di mercato che gettano in soffitta oggi le arti e la filosofia perché non producono utili immediati domani mattina. Anche questo, per sanare questa biforcazione, si richiede memoria storica, tensione etica, responsabilità, capacità predittiva e forza progettuale intrise l'una e l'altra di coscienza storica. C'è una concezione del diritto secondo la quale nessuna norma è interdetta. Le norme, scrive un grande giurista italiano, Natalino Irti, possono essere tenute come merci fattibili dall'uomo. La norma come merce, la norma generata dall'interesse del politico o dell'imprenditore che a volte in alcuni paesi coincidono, per esempio in un paese che confina con questo, si chiama Italia, la possibilità che il diritto sia una merce fattibile dall'uomo e che coincida con l'interesse di chi le detta le norme. La forma delle leggi, però, è un'altra cosa. La verità del messaggio, la verità della forza morale che è dentro di noi non sempre coincide con la validità delle procedure. Dobbiamo restituire al diritto un orizzonte stabile, ridurre il diritto, ridare al diritto, ridurre la frammentazione del diritto costruendo una nuova razionalità del diritto che si leghi alle grandi leggi universali e alla loro forza storica. Ci sono non soltanto le norme che una per una possono andare bene o andare male, possono essere state determinate da situazioni contingenti, locali, da interessi anche di una sola persona o di una sola classe sociale. Ma al di là di questo ci sono contenuti ricchi di grande saldezza, dotati di un rango durevole e necessario. Tale è la salvezza della terra e della vita, non solo umana. Tale è la salvezza dei flagelli che ci minacciano. Tale è la responsabilità etica che deve calarsi nella forma del diritto e forgiarla sulla propria misura. Dobbiamo contrastare se non vogliamo essere soli e chiuderci in una solitudine che condanna gli altri a una solitudine peggiore della nostra. Dobbiamo contrastare la violenza di chi per proprio vantaggio cannibalizza l'ambiente che ci circonda. E perciò è vitale l'alleanza fra coloro che professano. Da qualsiasi punto di vista partano e a prescindere da obbedienze religiose o politiche, da chiunque avverta la stretta, urgente necessità di difendere l'ambiente e di difendere la vita, che lo si faccia in nome di un messaggio divino, che lo si faccia in nome di un messaggio naturalistico, della natura eterna, della ragione umana, che lo si faccia in nome dell'etica o in nome del diritto. E' quello che un grande costituzionalista tedesco, Peter Heberle, ha chiamato imperativo ecologico. Sin dai primi anni 80, Heberle ha scritto dei testi molto importanti di fronte alle nuove sfide del mondo, come la crescita incontrollata del debito sovrano, che già allora si vedeva che avrebbe portato il mondo alla deriva in cui oggi si trova. Heberle, in particolare in un libro che si è stato tradotto in italiano, si chiama in italiano Allo Stato Costituzionale, pubblicato alcuni anni fa dall'Enciclopedia Treccani, Heberle sostiene con eloquenza, sto citando, che lo Stato sociale di diritto è una prosecuzione congeniale al XX secolo del vecchio concetto di Stato di diritto. Ma oggi, scrive Heberle, anche il concetto di Stato sociale di diritto è ormai vecchio. E' necessario un nuovo sviluppo dello Stato Costituzionale che deve assumere responsabilità verso le generazioni future, sentirsi obbligato nei confronti della tutela dell'ambiente, la nuova frontiera e, scrive Heberle, uno Stato ambientale di diritto. E' necessario un nuovo patto generazionale, un nuovo patto generazionale inteso come nuova forma del contratto sociale per andare verso quello che lui chiama un Umweltstaat, uno Stato ambientale, il cui pilastro portante debba essere la nozione di popolo unita alla nozione di natura. L'idea di popolo, scrive Heberle, è infatti di per sé una cooperazione, una coesistenza, una successione di varie generazioni. E' molto interessante vedere a livello del diritto costituzionale, che naturalmente non è la mia materia ma nella quale io ho fatto qualche lettura perché mi sembra un tema molto interessante della frontiera di questi discorsi, vedere che nelle Costituzioni e nelle norme oggi c'è un certo movimento in questo senso. Per esempio, presso le Nazioni Unite c'è un'iniziativa molto importante per la creazione di un tribunale internazionale contro i crimini ambientali. Ed è stata introdotta e sviluppata in alcuni libri molto importanti, scritti da giuristi, che sono in numero abbastanza impressionante donne. E questo secondo me è anche molto significativo. La nozione giuridica di ecocidio, cioè l'idea di uccisione dell'ambiente e l'idea di creare alle Nazioni Unite una international course for environment. E' di qui che ha origine il nesso forte fra il diritto a un ambiente sano e il diritto alla salute, che si sta affermando in alcune nuove Costituzioni sotto la bandiera ormai nota a tutti del buen vivir delle Costituzioni dell'America Latina. Di tale segno è la Costituzione dell'Equador del 2008. E' ancor più netto quello della Bolivia del 2009, che in uno dei suoi articoli prevede, lo leggo, il diritto a un ambiente sano, protetto ed equilibrato per gli individui e le comunità delle generazioni presenti e future. E' l'articolo 33 della nuova Costituzione boliviana. Forte garanzia di tale diritto è, dice l'articolo 34 della stessa Costituzione, che qualsiasi persona a titolo individuale o in rappresentanza di una comunità ha facoltà di esercitare l'azione legale in difesa dell'ambiente senza pregiudizio degli obblighi delle istituzioni. Questo è una ripresa consapevole, perfettamente consapevole di un antico istituto del diritto romano, che si chiamava nel diritto romano actio popularis, l'azione popolare, cioè il diritto di ciascun cittadino di agire in giudizio contro lo Stato in nome dello Stato. Cioè ciascun cittadino nel diritto romano aveva il diritto di denunciare il magistrato pubblico, che so io, in questa ora il consolo che aveva delle responsabilità pubbliche, per aver fatto delle leggi che erano contrarie all'interesse pubblico. Di fronte a questo gigantesco ecocidio dobbiamo dunque riflettere sulla nostra responsabilità. Quando Dio chiede a Caino dov'è Abele, Caino risponde son forse io il custode di mio fratello? Dobbiamo noi oggi rispondere son forse io il custode delle generazioni future? Dobbiamo forse di fronte alle distruzioni ambientali comportarci come Caino? Io non lo credo. Nuove nozioni giuridiche, come i diritti delle generazioni future, le comunità di vita, vanno esplorando nuove frontiere del diritto, adattandosi alla cultura globale in cui viviamo, cercando nuovi rimedi per l'aria, le acque e i luoghi sulla scia di quell'antico trattato ipocratico. Dobbiamo saper volgere però il nostro sguardo anche verso il passato e ricordarci che, io vi ho citato i pochi, ricordarci che c'è una lunga, una lunghissima tradizione giuridica, cercando di trovare, di rintracciare, non ho il modo di parlarne oggi, la voce antica del pubblico interesse come nettamente sovraordinato al profitto privato. Si chiamava bonum comune negli statuti delle città medievali italiane, si chiamava pubblica utilitas nelle norme degli stati italiani preunitari, soprattutto degli stati pontifici. Per esempio, la norma, la Costituzione apostolica di Gregorio XIII, il papa a cui dobbiamo il calendario che usiamo, que pubblica utilia e decora, prescrive dalle prime righe in un meraviglioso latino curiale, l'assoluta sovraordinazione dell'interesse pubblico sull'interesse del singolo. Da un osservatorio italiano vorrei dire che ricordare questi precedenti, questi precedenti a cui ho appena fatto allusione, non significa affatto fare lavoro di erudizione, significa attingere dalla storia le energie per costruire e le idee per costruire il nostro avvenire. Come scrive un grande conservatore britannico, Edmund Burke, commentando nel 1790 gli eventi della rivoluzione francese, gli uomini che non guardano mai indietro verso i propri antenati non saranno mai capaci di guardare avanti verso i posteri. E di questa lungimiranza bifronte che abbiamo assolutamente bisogno per vivere il presente consapevoli del passato mentre costruiamo il futuro. Questa è la materia prima di cui furono fatte quelle nozioni antiche di bonum comune, di pubblica utilitas, di pubblico interesse fino all'utilità sociale che risuona nella Costituzione italiana. Nozioni che hanno una lunghissima storia. In fondo che cos'è la nuova moda del diritto delle generazioni future se non un modo diverso di declinare, di descrivere, di articolare con parole il bonum comune di cui parlava Sant'Omaso d'Aquino. Lo strettissimo legame, anzi l'identità fra bene comune e bellezza della città, altro tema, una costante della storia europea ma soprattutto italiana, da Venezia a Roma alla Sicilia, prodotto altissimo di una secolare cultura urbana che ha dato fra l'altro luogo all'articolo 9 della Costituzione italiana che dice la Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della nazione. Un articolo che è stato ispirato dall'articolo 155 della Costituzione della Repubblica tedesca di Weimar e che è arrivato a una formulazione considerata oggi dai costituzionalisti la più avanzata del mondo e vorrei dire un piccolo un piccolo aspetto di tutto quello che cosa intendo per lungimiranza. Nella Costituzione italiana non si parla mai di ambiente perché nel 48 quando la Costituzione entrò in vigore nel 46 47 quando fu scritta dall'Assemblea Costituente la cultura ambientalistica oggi a noi così familiare non c'era ancora. Quando però le controversie ambientali sorsero nessuno pensò di riscrivere la Costituzione. L'ambiente fu trovato nella Costituzione in via interpretativa e come? Congiungendo la tutela del paesaggio di cui vi ho letto l'articolo 9 con la tutela del diritto alla salute come diritto dell'individuo e interesse della collettività dell'articolo 32. In tal modo diritto alla salute e conservazione del paesaggio sommandosi formano la nozione costituzionale di ambiente in Italia mostrando che la Costituzione del 48 può produrre frutti anche oggi ed è considerata da chi se ne intende la più avanzata formulazione la più avanzata formulazione costituzionale dell'ambiente. A volte si dice citando una frase famosa di Dostoevsky la bellezza salverà il mondo e io invece vi dico che la bellezza non salverà mai nulla se noi non salviamo la bellezza. La questione ambientale oggi si gioca sull'etica non sulla bellezza e perciò è importante che nel momento in cui noi ci diciamo quello che ci piace e quello che non ci piace non dobbiamo genufletterci davanti a chi dice ma a me il tale paesaggio che a te piace a me non piace e perciò lo devasto perché in questo modo tutte le opinioni si equivalgono. Dobbiamo invece spostare il discorso da un principio estetico a un problema di legalità a un problema storico, filosofico, etico. In nome di chi, per beneficio di chi, conserviamo l'ambiente che ci circonda o che è lo stesso? Chi danneggiamo quando devastiamo il paesaggio e l'ambiente? Credo che a queste domande si debba rispondere partendo dall'idea di bene comune e da una riflessione che vi ho solo accennato sui diritti delle generazioni future. L'uomo io credo non è solo anche perché le generazioni di oggi sono legate a quelle di ieri e di domani da un patto non scritto ma essenziale per la storia della civiltà, essenziale per il futuro della nostra civiltà. Perché la vita stessa di una società civile comporta idee e regole che, cito ancora il grande conservatore Edmund Burke, richiedono un tempo molto più lungo dello spazio di una vita. Le regole che viviamo, la società in cui siamo, esige, scrive Burke, piena collaborazione non solo tra i vivi ma anche tra i vivi, i morti e chi deve ancora nascere. Grazie. Grazie. Grazie infinito al professor Settis. Il professore per degli altri impegni di lavoro non sarà con noi questa sera all'aperitivo e perciò nel suo caso abbiamo pensato di ritagliare 5 minuti perché siamo già un po' in ritardo. Per lasciarvi lo spazio di fare una domanda qui ora se l'avete. C'è qualcuno di voi che ha un quesito? Ok. È un po' presto. Forse per rompere il ghiaccio. Ne faccio uno breve io e che riguarda un suo intervento scritto abbastanza recente pubblicato in un numero di micromega perché mi sembrava che potesse riportarci ancora una volta in un modo diverso al tema di questa giornata. Lei è stato invitato a rispondere sostanzialmente a un quesito sulla possibilità o sulla capacità attuale contemporanea degli intellettuali di essere impegnati in qualche modo. E credo che nella sua risposta ci fosse qualcosa che riguardava in qualche modo anche il diritto, il dovere dell'intellettuale di poter chiudersi nella solitudine e di non poterlo fare sempre. È così. Ma dunque io in realtà quell'articolo non l'avevo scritto per micromega. Quello mi era stato richiesto da una rivista americana, è uscito in America prima che in Italia, è uscito in italiano, in una rivista americana per italianisti. Quindi mi avevano chiesto di scriverlo in italiano. Poi quando micromega mi ha chiesto un articolo sullo stesso tema gli ho detto due cose, gli ho ridato lo stesso. Dico questo perché era tagliato su un pubblico americano a cui ho cercato di spiegare, questo spiega alcune caratteristiche di quell'articolo, lo dico per lei che sarà l'unica dei presenti che lo ha letto, in cui si spiegavano alcune cose della situazione italiana. In particolare il fatto che il ruolo dell'intellettuale, una volta legato molto ai partiti, a tutti i partiti italiani, nella nuova temperie politica che si è fermata negli ultimi 15-20 anni, in Italia il ruolo politico degli intellettuali è ridotto a zero. Ci fu un momento in cui alcuni partiti, si dice della sinistra, ma era altrettanto vero della democrazia cristiana, facevano spesso ricorso agli intellettuali e c'era anche un certo riversamento di intellettuali nel Parlamento, nella Camera, eccetera. Questa è una storia che è finita ed è finita per delle ragioni che in massima parte sono negative, per esempio per via dell'infame legge elettorale che c'è in Italia adesso e di altre ragioni di degrado della vita pubblica in Italia. Io invece in quell'articolo quello che ho detto è di prendere la parte buona, guardare la mezza bottiglia piena, per così dire, cioè pensare che mentre l'intellettuale degli anni 60, degli anni 70, italiano in particolare, degli anni 60, 70, poteva impegnarsi nella vita pubblica sulla base del grossolano equivoco, secondo cui impegnarsi nella vita pubblica equivale a salire, scendere, andare in parallelo in politica, l'intellettuale di oggi lo sa, che la politica per lui è chiusa, dunque ha uno straordinario vantaggio, fare il cittadino, parlare da cittadino, infischiandosene di ogni prospettiva di fare una qualsivoglia carriera politica. Questo è il vantaggio che l'intellettuale oggi si deve prendere. Questa è la solitudine rispetto alla politica, che vuol dire la non solitudine rispetto alla vera politica, e lo dico in senso etimologico, perché la parola politica in greco è un aggettivo politiche, tecne, l'arte di stare nella polis, l'arte del cittadino, del polites, di dialogare con gli altri cittadini. Questo è il significato originario della politica, è diventata un mestiere e questa è un'altra accezione della parola politica. Io prediligo dal cittadino l'accezione greca. Grazie a tutti.